E come c'è il confronto? Per il ritorno Siria, brava! Non c'è il fatto di andare? Per il ritorno Siria, brava, dici a tutti, ok. Sono solo due punti. E' la sua parte 0-0. Per il ritorno Siria, brava, dici a tutti, ok. E' il tutto per l'Italia. 2-1, 2-1, e così Siria, e così che si fa. Non chiedere. E' il tutto per l'Italia. E' il tutto per l'Italia. Sì, sì, ancora, ancora, ancora! E ora, 100 passaggi dietro, 100 passaggi dietro! E la prima macchia in Ucraina in vantaggio 20! Ancora, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19! Sì, sì, è bene, sì! Perché siamo tutti tutti, perché siamo tutti in Italia! Va bene così! Vai a riposo! Quattro due cadere! Quattro due cadere! Vai, vai! Quattro due cadere! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.